Siamo al termine della conferenza finale del progetto E-Town che si è tenuta il 20 luglio a Milano presso la sede di Assista. È stato un momento di confronto importante, ci ha consentito di verificare le attività, i risultati, il lavoro del progetto E-Town con alcuni interlocutori che appunto hanno portato un contributo importante. Abbiamo qui Valentina Belli di Lombardia Infrastructure Lombarde e il professor Marco Filippi del Politec di Torino che è stato uno degli animatori anche scientifici e culturali del progetto E-Town. Oggi abbiamo una brillante presentazione molto chiara fatta dalla dottoressa Belli apprezzato il complesso di norme con cui la Lombardia in attuazione delle direttive europee e delle normative nazionali ma anche anticipando gli esiti futuri delle norme nazionali ha introdotto obblighi stringenti per quanto riguarda le prestazioni energetiche e la sostenibilità degli edifici. Questa anticipazione della Lombardia in che cosa consiste e quali sono i primi risultati che si stanno vedendo al fatto di aver anticipato nei termini gli obblighi che poi verranno più in generale per l'intero paese? Praticamente la regione Lombardia ha anticipato l'obbligo di costruire e di ristrutturare nel momento in cui le ristrutturazioni sono definite come di primo livello quindi grandi ristrutturazioni che intervengono sia sull'involucro che sull'impianto termico, gli edifici a energia quasi zero. Obblighi che a livello nazionale sono previsti solo dal 2019 o dal 2021 a seconda che gli edifici siano pubblici o privati. Il mercato delle costruzioni non è così brillante in questo momento quindi si cominciano a vedere i primi esiti di questa normativa quello su cui diciamo che il settore su cui dobbiamo spingere è la riqualificazione degli edifici esistenti sicuramente. I primi attestati di prestazione energetica che ci indicano che gli edifici a energia quasi zero sono in costruzione cominciano ad arrivare non sono ancora così tanti però nel corso del tempo vedremo quali sono gli esiti di questa normativa. Itaun è stato un progetto un po' spurio perché ha messo insieme impiantistica e costruzione di ili avendo nel partenariato sia Lance che la CNA che Assestal però è il cantiere moderno che mette sempre più insieme costruzione tradizionale umido e secco installazione di materiali e componenti e impiantistica. Oltre l'efficienza energetica verso la costruzione sostenibile è stata una delle lezioni che cerchiamo di trasmettere con questo progetto o sbaglio? Certamente, in questo momento il tema non è soltanto quello dell'efficienza energetica ma più in generale della sostenibilità e della costruzione. Quindi con ciò intendo i temi anche dell'acqua, i temi della gestione del costruito, quindi i temi della qualità ambientale. Quindi questa deve essere la visione del futuro. Giustamente come è stato detto prima siamo in un momento in cui il mercato è in difficoltà, immaginiamo che però debba ripartire ed è il momento giusto per cercare di vederlo in questi termini. Cioè sia la riqualificazione energetica e il patrimonio di edilizio esistente è un tema ma dobbiamo pensare a una riqualificazione tipo sostenibile del patrimonio di edilizio esistente. E questo vale a tutto campo, anche quando parliamo di ricostruzione post-remoto. Cioè il tema è quello di avere una visione più ampia, avere una visione complessiva che non si fermi soltanto a risparmiare il costo di esercizio legato all'energia. Quindi questa è la visione che dobbiamo spingere in questi anni.